Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale mostra qualche leggero segno di cedimento sul suo bordo orientale a causa di aria più fresca e instabile che dei Balcani raggiungerà prima il centro-nord e poi il centro-sud Italia, lambendo il versante adriatico. Si riaccenderà l'instabilità specialmente sulla catena penninica e zone interne, mentre le temperature non subiranno grandi variazioni se non qualche grado in meno nelle zone coinvolte dai temporali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per giovedì 15 giugno. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, salvo velature di passaggio in tarda mattinata. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali della Puglia con qualche breve rovescio temporale possibile su Daunia e Melfese. Dal tardo pomeriggio sera possibilità di qualche rovescio anche sulle zone interne della Puglia centrale e sul Tarantino. Temperature, come notiamo dalla grafica, stazionarie nei valori minimi, in lieve flessione nei valori massimi, con punti ancora oltre i 30-32 gradi, venti deboli da direzione variabile a prevalente regime di brezza, mari quasi calmi o calmi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per averci regalato questo spettacolare scatto della luna piena che abbraccia Torre dell'Alto, torre risalente al XVI secolo e situata sulla costa salentina in località Santa Caterina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.